Ma anche difficili, per esempio, ha tentato subito molto prima quando è diventato già l'81. Ha tentato, ha compito la morte. Lui era convinto che lo ha salvato la Madonna di Fatima. Prima non aveva tanta devozione, ma ha capito perché l'attentato è arrivato il 13 maggio. Lui ha capito nel giorno della Madonna di Fatima. Pensava perché in questo giorno? Perché tutto questo? Ho pensato che Dio voleva qualche cosa mostrare. E così ha accettato questo attentato, basta dire che perché io sono stato con lui in auto, in passaggio dal Piazza San Pietro all'ospedale, in ambulanza. Lui già perdonato, perdonato all'attentato quando non sapeva neanche che era. Grazie. 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 Grazie.